Stare insieme, condividere, avere qualche momento di sollievo. Questo è quello che l'Associazione Maruzza fa da tempo, sostenendo le famiglie con figli che hanno patologie inguaribili e devono essere seguiti costantemente dalle persone che gli sono vicine. Le affianca nell'assistenza regalandogli del tempo per loro e quindi sollievo. In quest'ottica è organizzato un campo a bel piano nel comune di Borzonasca. Un primo esperimento che si fa in Liguria, un campo con i bambini, con i ragazzi che sono seguiti in cure palliative, quindi un campo per i ragazzi ma soprattutto per i genitori, per stare insieme, per condividere le esperienze. Riuscire a spiegare quello che proviamo noi e la fatica che facciamo non è facile, però sicuramente il sollievo che noi dovremmo avere potremmo avere dalle associazioni, dai volontari, è quello di avere un po' di spazio libero per noi e nello stesso tempo essere sicuri, essere tranquilli che i nostri bambini sono in buone mani. A me queste esperienze mi piacciono tantissimo. Mi piace stare con questi ragazzi perché mi trasmettono una bella sensazione. Presenti alcune famiglie, due infermieri, i volontari. Fissi siamo 25, più o meno, 30. In più durante le giornate ci sono sia delle famiglie che non se la sono sentita di stare qua stabilmente per tutto il periodo. Quello che il professor Manfredini ricorda spesso è la frase aggiungiamo vita ai giorni, che significa non aggiungere quantità ma qualità alla vita dei piccoli o grandi pazienti e delle loro famiglie. Ecco, in questa esperienza si è aggiunta qualità alla mia vita. Cos'è che ti ha colpito di più? E forse il rapporto che si crea con le famiglie, essendo tutti bambini cronici, per lo più ragazzi cronici, si ha un po' la possibilità di creare proprio un rapporto che sia anche un rapporto di fiducia nel tempo. Significa comunque mettersi di fronte a un carico emotivo importante, di sicuro anche a un senso di sproporzione rispetto a quello che è il bisogno infinito di queste famiglie e noi cerchiamo come possiamo, con le risorse che abbiamo, di dare loro una mano. Tra le attività, musicoterapia, intervento assistito con animali, arteterapia e pilates terapeutico. In queste situazioni è importante avere un aiuto, ma anche il modo in cui questo avviene è importante. C'è tanto bisogno di essere ascoltati, di ascoltare, di imparare, di ricevere in un lavoro che è circolare, non è io do, tu ricevi perché ho delle cose da dare e quindi poi risolvi i problemi, ma piuttosto una cosa circolare.